altre imprese nel settore dell'alluminio, non vi faccio un elenco, ma è tutto un fermento in questa Europa, è tutto un fermento e l'euro lo sta accelerando, cioè l'euro è proprio una molla che sta creando un continente unico, è chiaro che questo non è uguale per tutti i paesi europei, ci sono alcuni paesi europei che vanno più forti, vi ho fatto un elenco di fusioni che vede soprattutto i tedeschi come protagonisti e questo è un altro problema del bilanciamento all'interno dell'Europa, però tutto questo vi dà l'idea di un'Europa che di fronte a una fermentazione politica, difesa, politica estera comune ed economica, tutte queste fusioni, tutte queste concentrazioni, la relazione della moneta unica che tendono fatalmente, che ci aiuteranno a creare veramente delle strutture sovranazionali, è interessante vedere come la Gran Bretagna che è fuori dall'euro perché Blenner si era impegnato di fronte ai suoi elettori di non entrare nell'euro nell'ultima campagna elettorale, ma capisce che non può star fuori da questa Europa e allora proprio la Gran Bretagna che era sempre stato il paese più restio a una politica della difesa comune, propone a Francia e Germania e a tutta l'Europa di cominciare ad affrettare il processo di messa in comune delle strutture di difesa, questo è un altro evento che vi dice come la moneta direttamente o indirettamente stia muovendo tutta l'Europa, allora vedete quello che vi ho detto all'inizio di queste due lezioni che cioè si sta realizzando qualcosa che mai l'umanità ha realizzato è rigorosamente vero, si sta realizzando nella pace, si sta realizzando nella concordia, si sta realizzando senza guerre, si sta realizzando come i grandi padri fondatori dell'Europa avevano sperato quando fecero questo meraviglioso e grandioso atto di fede, grazie.